Fab Lab Ottoka diventa in realtà il laboratorio digitale creato da Consorzio Industriale, Confartigianato e Comune di Oristano. Le nuove tecnologie hanno difficoltà ad arrivare alle piccole imprese. Con questo progetto noi vorremmo che le imprese e i loro lavoratori potessero venire ad addestrarsi in quest'aula insieme agli studenti che in futuro possono diventare anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro i nuovi lavoratori dell'industria 4.0 del nostro territorio. Una volta accesa la macchina si comincia a riscaldare, arriva a una temperatura di 200 gradi che scioglie la plastica che viene introdotta all'interno di questo buco qui. C'è il piano che si riscalda a una temperatura di 60 gradi, va inserita una scheda SD oppure via cavo il file attraverso un software e poi attraverso questa manovella si sceglie il file da stampare e questa qui in automatico parte. Abbiamo stampato questo GECO, qui purtroppo c'è stato un errore perché la macchina si è bloccata a metà dell'opera e non si è concluso e adesso stiamo provando a creare un altro oggetto. In un'area industriale ci sono 165 aziende con 1800 persone occupate direttamente, quindi si parla tanto di continuità scuola-lavoro e questo poteva essere per noi un modo molto concreto di rifare in modo che potesse realizzarsi questo. L'impegno è nato con la giunta Tendas nel 2016, quindi è corretto dare anche il giusto riconoscimento a chi ha creduto insieme a noi per portare avanti questo percorso. Grazie a tutti!